Benvenuti nel secondo episodio di Borghi Medievali d'Italia, un'avventura emozionante alla scoperta dei tesori nascosti del nostro amato paese. In questo format vi portiamo in viaggio attraverso una miriade di borghi medievali italiani, rivelando le loro particolarità e meraviglie uniche. Dalle gemme più famose alle perle meno conosciute, sveleremo il fascino intramontabile di queste antiche cittadine, con le loro strade antiche, le maestose mura e i panorami sorprendenti. Preparatevi a immergervi nella magia del passato e a scoprire i tesori che rendono l'Italia così speciale. San Gimignano, una perla medievale situata in Toscana, è conosciuta come la città delle torri. Questo affascinante borgo è famoso per le sue torri medievali, che si ergono maestose nel cielo e offrono spettacolari panorami sulla campagna circostante. Il centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offre strade lastricate, piazze tipiche ed antiche chiese. Con la sua atmosfera unica e le sue bellezze architettoniche, San Gimignano è un luogo incantevole che trasporta i visitatori indietro nel tempo. Bobbio, situato nell'Appennino Chiacentino, in Emilia-Romagna, cattura l'attenzione con la sua bellezza e la sua storia millenaria. Attraversato dal fiume Trebbia, è famoso per il suo antico ponte romano e per l'abbazia di San Colombano, un'imponente costruzione religiosa. Bobbio è un luogo affascinante che incanta con la sua autenticità, la sua bellezza naturale e il suo patrimonio culturale. Erice, situato in cima a una collina in Sicilia, incanta con il suo fascino antico e le sue viste panoramiche. Le sue strade in pietra portano a piazze incantevoli, antiche chiese e case tipiche. Erice è famosa per il suo castello normanno e per la sua torre di avvistamento, da cui si può ammirare il mare e la costa circostante. Con il suo fascino medievale e le sue vedute spettacolari, Erice è una destinazione imperdibile in Sicilia. Assisi, una città sacra situata in Umbria, è conosciuta in tutto il mondo come luogo di Rinascita di San Francesco. L'imponente Basilica di San Francesco, con i suoi affreschi rinascimentali, attira pellegrini e visitatori per la sua bellezza e spiritualità. Le stradine acciottolate conducono a incantevoli piazze, chiese storiche e viste panoramiche sulla campagna circostante. Questa città intrisa di spiritualità, storia e arte cattura i cuori dei turisti e incanta con la sua atmosfera unica. Poppy, un borgo toscano situato nelle colline del Casentino, affascina con la sua bellezza e il suo patrimonio storico. La maestosa rocca di Poppy, una delle più belle fortezze medievali d'Italia, domina l'orizzonte, mentre il centro storico si sviluppa intorno ad essa con le sue strade strette e le case in pietra. Poppy è famosa anche per il suo castello, che ospita la celebre biblioteca riliana con antichi manoscritti e incunaboli. Con il suo fascino medievale e il suo ambiente suggestivo, Poppy regala un'esperienza autentica in un angolo incantevole della Toscana. Matera, un tesoro nascosto nella regione della Basilicata, affascina con la sua bellezza e la sua storia millenaria. I Sassi di Matera, un complesso di antiche grotte e abitazioni scavate nella roccia, costituiscono uno dei siti più affascinanti e unici al mondo. Questo paesaggio arcaico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, trasporta i visitatori indietro nel tempo. Matera offre anche affascinanti chiese rupestri, stradine tortuose e una vivace scena culturale. Con la sua atmosfera magica e le sue particolarità uniche, Matera è una destinazione imperdibile per gli amanti dell'arte, della storia e della bellezza senza tempo. Cittadella. Situato nel Veneto, questo borgo affascina con la sua imponente cinta muraria e il suo carattere autentico. Le possenti mura, con torri e bastioni, circondano il centro storico, creando un'atmosfera suggestiva. Le stradine tipiche conducono a piazze accoglienti e a edifici storici ben conservati. Cittadella è un vero gioiello di architettura medievale, con il suo fossato, le sue porte d'accesso e il suo castello. Questo borgo incanta con la sua bellezza intramontabile e la sua storia ricca di fascino. Castel Arquato. Situato in Emilia-Romagna, cattura l'attenzione con la sua bellezza e il suo fascino storico. Il borgo è dominato dal maestoso Castello Visconteo, che offre una vista panoramica sulla campagna circostante. È noto anche per la sua architettura romanica, con la suggestiva collegiata di Santa Maria Assunta. Con il suo carattere autentico e il suo patrimonio storico, Castel Arquato regala un'esperienza indimenticabile nel cuore dell'Emilia-Romagna. Orvieto. Situato in cima a una collina nella regione dell'Umbria, stupisce con la sua bellezza storica e le sue opere d'arte. La maestosa Cattedrale, con la sua facciata gotica riccamente decorata, è un'attrazione imperdibile. Il centro storico è caratterizzato da strade tortuose, palazzi medievali e piazze pittoresche. Orvieto è famosa anche per i suoi vini pregiati e le sue cantine sotterranee, che invitano a degustazioni indimenticabili. Con la sua atmosfera medievale e il suo patrimonio artistico, Orvieto è un vero gioiello dell'Umbria. Monteriggioni. Un borgo fortificato situato in Toscana, cattura l'immaginazione con la sua imponente cinta muraria e il suo aspetto da fiaba. Le possenti mura, coronate da torri merlate, circondano il centro storico, offrendo una vista mozzafiato sulla campagna toscana. Le stradine conducono a piazze tranquille e a edifici medievali ben conservati. Monteriggioni è un vero gioiello di architettura medievale, che trasporta indietro nel tempo con la sua autenticità e il suo fascino intatto. Montefalco. Situato in Umbria, è conosciuto come il Balcone dell'Umbria per la sua posizione panoramica e le splendide viste sulla campagna circostante. Questo affascinante borgo è celebre per i suoi vini pregiati, in particolare il Sagrantino di Montefalco. Il centro storico è caratterizzato da strade in pietra, case antiche e chiese. Montefalco offre anche interessanti musei, tra cui il Museo di San Francesco, che ospita importanti opere d'arte. Alberobello. Uno dei borghi più famosi in Italia, situato in Puglia, è famoso per i suoi caratteristici trulli. Queste tradizionali abitazioni coniche, costruite interamente in pietra secca, creano un panorama unico e suggestivo. Il centro storico di Alberobello è costellato di trulli ben conservati, che formano un labirinto di stradine affascinanti. Questo sito, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, incanta con la sua particolarità e il suo fascino tradizionale. È un luogo magico dove immergersi nella cultura e nella storia pugliese. San Leo. Situato nelle colline del Monte Veltro, stupisce con la sua maestosa rocca e la sua posizione panoramica. La rocca di San Leo domina la cima di un'altura, offrendo una splendida vista sulla valle circostante. Le stradine conducono a piazze tipiche e ad edifici storici, come la Basilica di San Leo e il Palazzo Mediceo. San Leo è avvolta da una magica atmosfera medievale, trasportando i turisti indietro nel tempo. Urbino. Situata nelle colline delle Marche, è rinomata per la sua ricca eredità artistica e la sua architettura rinascimentale. La maestosa rocca di Urbino domina l'orizzonte, mentre il Palazzo Ducale, un capolavoro dell'architettura rinascimentale, si erge con grandezza nel centro storico. Le strade strette conducono a piazze sorprendenti, chiese secolari e musei che custodiscono opere d'arte di inestimabile valore. Urbino incanta con la sua bellezza senza tempo e la sua atmosfera affascinante. Monte Gridolfo. È un borgo medievale situato sulle colline della provincia di Rimini, presenta un'atmosfera intatta ed un panorama notevole. Monte Gridolfo è caratterizzato dalla sua imponente rocca, che offre viste spettacolari sulla campagna circostante. Il borgo vanta anche una affascinante chiesa romanica e ristoranti accoglienti che offrono prelibatezze locali. Spello. Situato in Umbria, è una gemma nascosta con il suo antico fascino e le sue stradine acciottolate. Il centro storico è un vero e proprio museo a cielo aperto, con mura medievali ben conservate, chiese secolari e piazze caratteristiche. Le facciate delle case sono adornate da vivaci fiori e piante, creando un'atmosfera colorata e incantevole. Spello offre anche una vista panoramica sulla Valle Umbra. Con la sua bellezza e la sua autenticità, questo borgo incanta con la sua atmosfera tranquilla e il suo fascino senza tempo. Castiglione del Lago. Situato in Umbria, ha una posizione pittoresca sulle rive del Lago Trasimeno. Il centro storico è caratterizzato da un'imponente fortezza medievale, che offre una vista panoramica senza eguali sulla campagna circostante. Con le sue mura antiche, le sue architetture medievali e il suo affascinante ambiente lacustre, Castiglione del Lago è un luogo incantevole che cattura l'anima e offre un'esperienza indimenticabile. Montalcino. Situato in Toscana, è rinomato per il suo vino Brunello di Montalcino e il suo suggestivo paesaggio collinare. Le sue strade acciottolate conducono a piazze e antiche cantine, offrendo un'atmosfera autentica. La maestosa rocca di Montalcino domina il panorama, offrendo viste spettacolari sulla campagna circostante. Il centro storico è caratterizzato da architettura medievale, mura antiche e incantevoli chiese. Questo borgo incanta con il suo vino pregiato, la sua storia ricca di fascino e la sua atmosfera rilassante. Tivoli. Una cittadina situata nel Lazio, incanta con la sua ricchezza storica e i suoi splendidi giardini. Il principale gioiello di Tivoli è Villa d'Este, famosa per i suoi sontuosi giardini rinascimentali e le maestose fontane. Altra attrazione imperdibile è Villa Adriana, una vasta residenza dell'imperatore Adriano con rovine suggestive. Il centro storico di Tivoli offre stradine affascinanti, piazze vivaci e antichi edifici. Con la sua combinazione di arte, natura e storia, Tivoli è una meta da non perdere per gli amanti dell'arte e dell'architettura. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.